La presentazione di questa stagione 2016-2017 ha molti motivi di interesse e spunti di riflessione. Io avrò l'onore di aprire la stagione con La Bohème, che è stata un'opera scritta per questo teatro e che ha avuto la sua prima esecuzione nel 1896, quindi quest'anno celebreremo il 120esimo anniversario dalla sua prima esecuzione al Teatro Reggio di Torino. Per fare questo allestimento avremo una regista, Alex Oliede, della Fura del Baus, che modernizzerà, metterà in tempi moderni, in una periferia di una qualsiasi delle nostre grandi città, la storia dei sogni della gioventù. Finirò la stagione con il Macbeth di Verdi e questo contribuirà allo studio e al percorso che stiamo facendo con gli artisti dell'orchestra del coro e nel Teatro Reggio di affrontare i titoli verdiani e questa opera, che è il grande capolavoro della gioventù verdiana, ci darà proprio lo spunto, la capacità e l'occasione per mostrare a che livelli il giovane Verdi poteva arrivare, ripeto, prima ancora della sua consacrazione nazionale e internazionale con la trilogia popolare. Nel Mentre, in primavera, affronterò la Manon Lescaux, Bohème e Macbeth, nuove produzioni, la Manon Lescaux, spettacolo di repertorio del Teatro Reggio di grande preziosità classica, quindi ci saranno vestiti del Settecento, insomma le movenze del Settecento per un'opera che rappresenta il primo grande successo puciniano e anch'essa scritta per il Teatro Reggio e con la prima che avvenne nel 1893. In questo contesto ci sono altre opere affidate a colleghi assolutamente di rilievo internazionale, avremo Sansone Dalila, avremo Katia Cabanova, avremo Pagliacci, avremo Il flauto magico e poi avremo anche il musical West Side Story, probabilmente il capolavoro del musical di Leonard Bernstein, di cui tra l'altro cadrà il centenario nel 2018, quindi in qualche modo saremo i precursori di tutte le celebrazioni di Bernstein, senza poi dimenticare l'opera barocca, l'incronazione di Dario, tra l'altro affidata a un grandissimo specialista, Ottavo D'Antone, con la collaborazione delle belle arti, e il balletto con la bella addormentata, con la prima apparizione in Italia di Naccio Duato, che è un coreografo straordinario con lo Stats Ballet di Berlino. Penso che sia una stagione che possa soddisfare i gusti di tutti, per dire una cosa e per chi osare mi piacerebbe dirigerla tutta io, ma non è possibile.